Ciao a tutti amici e benvenuti a Rabianco Auto. Oggi voglio presentare questa vettura meravigliosa che è una Volkswagen Golf GTD 184 cavalli col pacchetto Sport & Sound cambio manuale vettura dell'anno 2016 con solo 68.000 km proveniente dalla Germania ex dipendenti Volkswagen vettura nel colore nero metallizzato fari all'oxeno ruota in lega da 18 pacchetto Sport & Sound quindi pinze rosse barra stabilizzatrice posteriore e il driving mode selection sensori di parcheggio avanti e dietro vedete che è perfetta di carrozzeria e anche di interni andiamo a vedere gli interni perfetta c'è ancora di nuovo questa macchina vedete andiamo a vedere il baule tra l'altro abbiamo anche il subwoofer perché la vettura è dotata di din audio sound system andiamo a vedere guardate perfetta da chi piace una vettura sportiva e che non consumi molto questa è la vettura che fa per voi guardate che bella stupenda ora andiamo a vedere un attimo gli accessori gli accessori allora 68.900 km poi abbiamo il keyless per far partire cruise control specchietti richiudibili elettricamente poi abbiamo il driving mode selection per andare a selezionare il profilo di guida il dine audio sound system abbiamo anche l'app connect dine audio vedete andiamo a cambiare l'amplificatore poi alle casse e subwoofer le casse ovviamente ha detto casse per dire che le casse più potenti radio telefono bluetooth di qua andiamo a selezionare il profilo di guida eco eco normal sport individual così andiamo ad adattare anche i fari direzionali questa vettura navigatore clima automatico sedili riscaldati vettura tutta tagliandata all'interno del cassettino è presente il libretto tagliandi con tutti i lavori tagliandi timbrati ma si vede anche dalle foto sul nostro sito biancoauto.it la vettura noi la consegniamo con il tagliando fatto olio e tutti i filtri tappetini in gomma doppie chiavi lucidature esterne sanificazioni interni e libretti istruzioni in italiano con tre anni di garanzia quindi chi acquisterà questa vettura ha tre anni di garanzia quindi sappiate che tre anni di garanzia sono veramente tanti la vettura da bianco auto a moto di costigliole venite a vederla venite a provarla la garanzia tra l'altro vale in tutta Europa in tutta Italia quindi anche se venite da lontano non fatevi problemi perché vale dappertutto ciao a tutti amici alla prossima ciao a tutti